come crescono in fretta vero impossibile resistere a peugeot e solo a giugno con i summer days su peugeot 2008 con motore più tech peugeot ai cockpit e touchscreen è tuo da 13.950 euro oltre a oneri finanziari anziché da 14.950 euro peugeot offerta valida per vetture in pronta consegna con iNube dan 475 tag 711 scada il 30 giugno salvo approvazione banca psa italia cosa mangio oggi ancora pizzo in ufficio eyanna razzi con me dimmi di sì ok luca la pausa pranzo è tutta gioia e niente noie con luca e l'insalatone dimmi di sì fresche genuile pronte da gustare ovunque dai spogliati e non viene a fare il bagno se anche tu soffri di psoriasi o dermatite conosci bene la paura di mettersi a mondo alle terme di comano in trentino che è un centro d'eccellenza per la cura della pelle con acque termali ricche di proprietà naturali riscopri la sensazione di stare bene nella tua pelle terme comano punto il punto il punto il punto è avere una partita eva non è mai semplice ci pensa fpa con chiaro e tondo lo sconto sempre garantito sull'acquisto dell'auto del brand alfa romeo gp viat lancia e abart per aziende e liberi professionisti con partita eva prego fa straridere iniziamo il nostro adesso gli lasciamo il nostro quanti anni esatto le stiamo spiegando come funziona lo scatto d'agno come la zia è molto ragionevole se lo facciamo ragionare non è che ragionare ci prova da anni e non ci riesce più ma non è vero poi marco tieni presente che il notario incontrerà la zia all'ingresso poi resterà in studio con fabio liuzzi ma peggio ancora mi piangerà la zia peggio ancora e dirà datemi la zia piuttosto ma non è vero ma non è vero ma non è vero ma non è vero anche tite che ti metti a passare davanti dio dio po dio a panculo ti e tutti quanti qui come ti dai a 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 noto alle forze dell'ordine il nuovo presidente a scampia e Reinaudo quando è stato raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco a il finale è falso sai quelle cazzo di capire cosa c'era la valigetta il coglione che sei il finale è falso c'era la valigetta ho pensato che bello è se gliela rubo e tutto in realtà sei mangiato la mia roba e vaffanculo infatti ricostruiamo la storia fino al punto di torni dal bagno perchè la storia finisce con te in pieno ma 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 Noi si... Noi si... ...dice io mi ficco in tasca puliti dai 6 agli 8 euro al giorno per immigrato. Noi si... Noi... 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 Noi...